Anonimo mi chiede, pratichi il digiuno? La risposta semplice è sì. Pratico un digiuno molto semplice, una volta alla settimana, per un principio fondamentale. Ciò che mangi, in parte viene elaborato e ti dà tutta quella energia, eccetera, una parte viene scartato e viene scartato sotto forma di cacca, eccetera, tutte quelle robe lì, e un'altra parte rimane lì non elaborata e quella crea un po' di questioni. Quindi dare un po' di riposo al corpo per buttare fuori ciò che non viene utilizzato è utile e quindi dà questo principio con un concetto con cui io mi trovo bene, che mi fa stare bene, che è un digiuno di un giorno, quindi non delle robe estreme perché ci sono dei digiuni estremi, eccetera, perché la mente vuole sempre le cose estreme. Secondo me bisogna avere un po' di equilibrio perché a volte la mente vuole di più di ciò che il corpo tollera, soprattutto in questa società moderna del no pain no gain, se non c'è dolore, se non c'è sofferenza, ma no, ma chi l'ha detto? Vai un po' per volta, digiuno, inizia magari, questo non è un consiglio medico, la filosofia, tu senti il medico ovviamente per queste robe qua. Io ho iniziato un po' la volta, piano piano, ho iniziato prima con un pasto, non mangiando un pasto, poi due pasti, poi tre pasti e mettevo solo della verdura, dei frullati di verdura o di frutta e poi magari solo con l'acqua. Vai un po' gradatamente, insomma, ascolta cosa ti dice il doutour e poi ascolta il tuo corpo, il tuo corpo grande maestro, grande maestra. Questo è un po' ciò che ho fatto.